I veri problemi del Campobasso antipesaro appaiono nel reparto mediano. Masecchia dovrà rinunciare allo squalificato Danucci. Il tutto avviene dopo la partenza di Leone datata inizio di questa settimana. A livello soltanto di pure sensazioni l'undici antipesaro sarà pressoché similare a quello di domenica scorsa all'Aragona di Vasto. Masecchia giocherà con il 4-3-3 al tecnico campano. Serve necessariamente anche un altro rinforzo in attacco evacuo. Infatti ultimo arrivato proprio in avanti ha dimostrato un ritardo dal punto di vista fisico. Non si può escludere che rimanendo così le cose si candidi Augustus per un posto fra i titolari. Il mercato rimane sempre aperto fino alla prossima scadenza di domenica 17. Il Campobasso così com'è ha bisogno ancora di qualche innesto. La società preferisce mantenere un discreto riservo sulle trattative che sono in piedi e che ancora devono essere formalizzate. Sono in attesa di chiudere un centrocampista ed un'altra punta dopo alcuni abboccamenti con Vacca e Cuomo che sembrerebbero essere tramontati quasi del tutto. A Selvapiana giungerà un pesaro assolutamente ferito dalla sconfitta interna contro il Francavilla. Gli abruzzesi hanno così spezzato una serie incredibile di sei vittorie consecutive da parte dei pesaresi. Dalle voci che corrono sembra che il tecnico marchigiano Giancarlo Riolfo possa rischiare in caso di mancato successo domenica a Selvapiana. I numeri parlano in maniera chiara. La forbice tra Matelica primo e Pesaro secondo è già di quattro punti e ai marchigiani conviene che non si allunghi ulteriormente. Nel corso del mercato estivo il Pesaro ha prelevato a piene mani dall'organico dello scorso San Marino tra i giocatori prelevati gli attaccanti Olcese, Buonocunto e Baldazzi. L'Agnone ha pronta la scienza per infilare la seconda vittoria consecutiva interna. In alto Molise arriva il Nero Stellati. La partita si potrebbe quasi definire un derby dell'Appennino considerata l'estrema vicinanza tra i due centri Agnone e Prato la Peligna. Di Meo recupera fra botta dall'infortunio. L'ex Campobasso tornerà regolarmente al suo posto. La prossima interna dell'Olimpia potrebbe apparire realmente alla portata dei Granata ma occhio e orecchie al Nero Stellati che domenica è riuscito a segnare ben tre gol nel pirotecnico pareggio. 3-3 contro il San Nicolò. È un risultato quest'ultimo che ha sorpreso tutti considerati gli attacchi molto asfittici sia del Nero Stellati che proprio del San Nicolò. L'attenzione per la squadra di Di Meo dovrà essere massima anche perché i Pratolani proprio in alto Molise si giocano delle velleità di risalita in classifica che benché minime esistono tutte. Ovviamente a Margarita e Soci è affidato il compito di stroncare il Nero Stellati, una delle due formazioni del Girone F, che insieme con il Monticelli non è stata in grado almeno fino ad ora di vincere una partita.